Buongiorno a tutti, benvenuti. Chiedo ai colleghi che conferma che mi sentano. Sì, sì. Perfetto, grazie Antonio. Chiedo anche agli altri colleghi se vogliono fare una prova col microfono, perché c'era prima un problemino. Io sento, voi mi sentite? Sì, non so se Laura vuole provare adesso. Nel frattempo do di nuovo il benvenuto a tutti i partecipanti a questo incontro dedicato agli enti competenti. Oggi, 14 novembre, siamo all'interno del solito percorso di formazione organizzato da Union Camere Veneto in collaborazione con la Regione e con tutte le Camere di Commercio, di cui oggi rappresentanza c'è Antonio Zorzetto dalla Camera di Commercio di Padova e poi forse si collegheranno altri colleghi delle altre Camere che comunque collaborano preziosamente alla realizzazione di tutto il percorso. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi e di presentare i colleghi, mi presento io che sono Giovanni Tarquinio della formazione di Infocamere e poi rinominerò anche il mio account. Infocamere è la società che realizza la piattaforma Impresa in un giorno ed è la società informatica delle Camere di Commercio. Oltre ad Impresa in un giorno realizza molti sistemi che enti Camere di Commercio, imprese, professionisti e alcune pubbliche amministrazioni utilizzano nel loro lavoro quotidiano. Le regole della partecipazione che conoscete già sono microfono e webcam spenti per tutti se non per i relatori. Utilizzare lo strumento domande e risposte per fare le domande ai relatori di oggi sull'argomento del giorno e scrivere in chat saluti o eventuali problemi di audio o video per chi li dovesse avere, speriamo che non ve ne siano. L'argomento del giorno ha questo titolo, verso la soluzione sussidiaria enti terzi. Il giovedì scorso, 7 novembre, ci siamo visti con me per parlare dell'attuale rapporto tra enti competenti e SUAP, sempre nell'ambito dei procedimenti dello sportello unico per le attività produttive. Oggi diamo uno sguardo al futuro parlando nuovamente di sistema SSU, sistema degli sportelli unici, di catalogo e faremo un'anteprima, neanche virtuale, raccontata della nuova soluzione sussidiaria enti terzi che non è neanche il termine giusto, sostituirà, prenderà il posto dell'attuale scrivania ente terzo. Come si innesta questo percorso formativo? Lo vediamo qui e vediamo anche quali sono i prossimi incontri. Abbiamo fatto gran parte del lavoro, siamo quasi agli sgoccioli, oggi è il 14 novembre, formazione dedicata solo agli enti competenti. Manca l'incontro del 26 novembre, al quale vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, cliccando sui bottoni che vi condividerò fra poco in chat tramite link e iscrivervi all'ultimo incontro del 26 novembre che sarà un incontro di aggiornamento e ripresa dei punti principali di nuovo del sistema informatico degli sportelli unici, ma rispetto ad oggi con un punto di vista più ampio e più generico e soprattutto concentrato sul cosiddetto catalogo. L'ultima cosa, stiamo registrando, le ultime cose stiamo registrando, la registrazione verrà pubblicata sempre sulle solite pagine di Union Camera Veneto che vi condividerò e come sapete la frequenza di questo corso dà diritto ad open badge attestati, rilasciati alla fine dell'intero percorso formativo, quindi tra fine novembre e la prima metà di dicembre, ogni corso verrà ritenuto seguito se sarà seguito almeno al 75% della sua durata, quindi oggi sono due ore e deve essere seguito per almeno un'ora e mezza, ma ci auguriamo che lo seguiate tutto anche perché i contenuti sono molto importanti. Sempre importante seguire da una propria postazione, quindi alle finalità dell'attestato è importante che ognuno abbia un proprio computer o un proprio smartphone attraverso il quale seguire perché così noi monitoriamo le presenze uno per uno. Le domande e le risposte saranno un argomento, un tema molto caldo della giornata, cercheremo di rispondere dal vivo, qualora non riusciamo per tempo o perché ci sfugge il contenuto della risposta, pubblicheremo le risposte sempre sulle pagine dedicate di Union Camera Veneto. Allora, Antonio Zordetto ve l'ho già presentato, vi presento la mia collega Giada Panicazzi che si occupa in infocamere della diffusione del nuovo sistema informatico degli sportagli unici. Insieme a lei c'è la collega Laura Gini che non so se è riuscita ad attivare il microfono. Mi sentite? Sì, perfetto, ok. Ottimo, meno male, grazie. Ok, che verrà in suo supporto in caso di eccesso di domande, diciamo così, ma le domande a noi ci piacciono, quindi fatele pure. Mi raccomando attraverso il bottone domande e risposte. Giada Panicazzi si occupa di diffusione del sistema informatico degli sportagli unici e oggi è la relatrice del giorno, quindi lascio a lei la parola, interrompo la condivisione, quindi le lascio la parola e lo schermo. Grazie, grazie mille. Vedete? Sì? Sì. Perfetto. Grazie ancora Giovanni, ma anche alle Camere, Union Camere, come appunto appena detto io sono Giada Panicazzi, mi occupo insieme al resto del team di diffusione di infocamere del nuovo sistema informatico degli sportelli unici, della sua diffusione e oggi parliamo appunto di questa componente che è la soluzione sussidiaria Enti Terzi e sono sicura che già usufruite di questo ottimo strumento di formazione di cui ha appena parlato anche il collega. Faccio solo un breve riepilogo sulla nuova architettura e sul catalogo in caso qualcuno purtroppo se lo sia perso. La nuova architettura SSU è appunto un elemento che poggia tra tutti su un importante percorso normativo. Questo percorso normativo ha origini un po' più lontani che sicuramente tutti conoscerete, quello dell'adeguamento alla direttiva Volkerstein, ovvero la direttiva europea sui servizi, quindi dal 2008 e soprattutto del DPR 160 relativo proprio agli sportelli unici per le attività produttive. Ma la vera genesi della nuova architettura SSU nasce con il nuovo allegato tecnico al DPR 160 che è stato pubblicato nel novembre del 2021. In questo nuovo allegato infatti si definisce per la prima volta il sistema informatico degli sportelli unici ma soprattutto un elemento fondamentale che andremo poi a vedere che è il catalogo. Non da ultimo il percorso normativo arriva al 2023 con la pubblicazione delle specifiche tecniche che sono per l'appunto un documento di stretta natura tecnica che definiscono proprio le linee guida e le regole per tutte le componenti informatiche che andranno poi a coesistere all'interno di questo nostro sistema e questa nostra nuova architettura. Perché siamo noi a dirvi questo? Perché appunto il sistema camerale ha un ruolo nella definizione ma anche poi vedremo nelle componenti. Il sistema informatico infatti è definito come un insieme di elementi e componenti che compongono e permettono la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e gli enti terzi coinvolti e a livello tecnico è proprio l'insieme dei sistemi informatici che questi soggetti utilizzano. Quali sono gli obiettivi di questa nuova architettura, di questo nuovo sistema informatico? garantire operatività e standardizzazione dei procedimenti, maggiore efficienza per le pubbliche amministrazioni sia dal lato SUAP sia dal lato enti terzi, una maggiore o comunque una crescente trasparenza nelle operatività dei SUAP e infine potete immaginare quale grande contributo sia questo sistema informatico all'evoluzione digitale delle pubbliche amministrazioni. Fino ad oggi dove siamo arrivati in questo percorso? Dopo la pubblicazione dell'allegato tecnico e delle specifiche di cui abbiamo parlato, il 26 luglio 2024 è stata data comunicazione di operatività del catalogo SSU in ambiente di collaudo. Quindi questo ha fatto partire un cronometro di 12 mesi, entro le quali tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, come dicevamo prima i SUAP, ma anche gli enti terzi, sono chiamati ad adeguarsi alle specifiche tecniche per quanto riguarda le loro componenti informatiche. I prossimi passi saranno il rilascio del sistema di accreditamento al catalogo SSU nel gennaio del 2025 e la piena operatività del catalogo alla scadenza dei famosi 12 mesi e quindi al 25 luglio 2025. Questa è un pochino un'immagine che cerca di rappresentare che cos'è questo nuovo sistema informatico degli sportelli unici, ritroviamo al suo interno degli elementi che sicuramente ci sono noti, il SUAP, sia lato front office sia lato back office e il back office ente terzo, quindi ciò che viene utilizzato dagli enti competenti che interagiscono con il catalogo. Questo è il core di questo sistema informatico, interagisce poi con due elementi fondamentali che sono comunica e il fascicolo di impresa e come potrete vedere il catalogo poi ha una relazione anche con la PD&D. Parliamo quindi del catalogo. Il catalogo, come dicevamo prima, è una di queste componenti, una componente che possiamo definire un po' orchestratrice perché gestisce le relazioni tra le altre componenti che abbiamo appena visto e è la base di conoscenza non solo dei procedimenti amministrativi unico e condivisa tra il SUAP ma anche l'elenco di tutti i sistemi informatici che utilizzano i soggetti front office, SUAP, back office, SUAP e back office ente terzi e soprattutto le regole per lo scambio informatico e informativo anche tra queste componenti. Dicevamo prima perché ne parla il sistema camerale? Perché il sistema camerale con il decreto interministeriale del settembre 2023 assume il ruolo di gestore del catalogo. Il sistema camerale per tramite di infocamere ha anche realizzato il catalogo stesso, oggi è chiamato alla sua gestione e deve garantire che questo intero ecosistema divenga poi pienamente operativo al termine dei 12 mesi. Il catalogo, come dicevamo un pochino anche prima, ha varie funzioni, alcune legate ai procedimenti e alcune legate invece alle componenti informatiche. Ne fa un censimento, ne permette una consultazione e poi ha un ruolo di orchestratore, come dicevamo, anche all'interno dei flussi di procedimento. Quindi genera i codici univoci che saranno validi poi per tutte le componenti e riceve i flussi comunicativi tra le componenti. Quello che contiene il catalogo viene alimentato attraverso due principali sistemi. Uno che riguarda i procedimenti è il sistema di popolamento e questo raccoglie le anagrafiche di tutti i procedimenti amministrativi di interesse del SUAP e un altro che attraverso il sistema di accreditamento che raccoglie le anagrafiche dei SUAP e quello di cui andremo a parlare oggi raccoglie le anagrafiche anche degli enti terzi, ovvero gli enti competenti. Insieme a questi raccoglie un'anagrafica anche delle componenti informatiche che questi soggetti utilizzano all'interno del sistema informativo degli sportelli unici. Una cosa un pochino più operativa, come poter quindi alimentare questa anagrafica, in questo caso degli enti terzi, attraverso il processo di registrazione al catalogo. Dicevamo prima che da gennaio sarà disponibile il sistema di accreditamento attraverso il portale nazionale Impresa in un giorno, agli enti terzi è chiesto di registrarsi per l'appunto in quanto ente terzo, non prima di una verifica tecnica di conformità della componente informatica che andrà a utilizzare all'interno dell'SSU. In cosa consiste questa verifica tecnica? Semplicemente in una verifica che la componente sia conforme a quanto definita dalle specifiche tecniche. Questo processo è governato dal MIMIT, dal Ministero, che ne fa quindi questa verifica attraverso uno strumento che è la suite di black box test e in assenza di anomalie, come ci auguriamo che accada, il lente terzo verrà poi abilitato prima la sua componente e poi potrà completare la sua registrazione appunto indicando all'interno del catalogo anche il proprio ente terzo. Dicevamo qual è la componente di interesse un pochino degli enti terzi ed è proprio quella, la componente back office ente terzo. La componente back office ente terzo si trova, come vediamo, all'interno del nucleo del sistema informatico degli sportelli unici, rappresenta sicuramente una delle novità maggiori all'interno della piccola rivoluzione che ha fatto il nuovo allegato e le nuove specifiche tecniche all'interno del sistema degli sportelli unici e cosa andrà a fare in questo sistema. Semplicemente si relazionerà con il catalogo che condividerà con questi back office le meta informazioni dei procedimenti, i descrittori di istanza, le indicazioni di quali back office UAP dovrà interrogare il back office ente terzo e registrerà gli eventi di avanzamento nel processo di istruttoria. Cosa dovrà fare invece il back office enti terzi verso il catalogo? Ricevere le istanze, inoltrare richieste di integrazioni se necessarie e dunque riceverle, trasmettere gli atti conclusivi, i pareri, le autorizzazioni e ogni documentazione che è prevista all'interno di un procedimento e richiedere nei casi previsti l'indizione della conferenza dei servizi. Come è oggi il panorama degli enti terzi? Il panorama degli enti terzi, così come è stato analizzato da parte del Dipartimento di Funzione Pubblica, è uno dei comparti che può beneficiare maggiormente della spinta alla digitalizzazione che ci fa appunto il nostro sistema informatico degli sportelli unici. Ad oggi solo il 2% degli enti terzi analizzati, come vediamo, ha già una soluzione epireidi, quindi più conforme alle attese delle specifiche tecniche, mentre un 8% utilizza una soluzione digitale di scrivania. Il 90% è questa cosiddetta zona grigia che utilizza ancora delle interoperabilità via PEC che non sono più previste dalle specifiche tecniche e quindi quali sarà il destino di questa zona grigia, ma anche di quell'8% che è dotato delle scrivanie che non hanno quindi strumenti che possono essere adeguati alle specifiche tecniche, adottare nuovi strumenti adeguati quindi alle specifiche tecniche oppure aderire alla soluzione sussidiaria degli enti terzi. Non vi serve che io vi dica chi sono questi enti terzi, sapete benissimo, è un qualsiasi ente che è competente all'interno di un procedimento di interesse del SUAP, questo vale per i vigili del fuoco nelle loro dimensioni territoriali, gli enti parco, le aziende sanitarie, enti di carattere regionale, pensiamo all'ARPA, enti di carattere nazionale, le sovrintendenze ad esempio nei loro distaccamenti territoriali, ma anche tutti gli uffici comunali che non sono immediatamente il SUAP, quindi l'ufficio commercio, l'ufficio ambiente, l'ufficio edilizia e via dicendo. Dicevamo quindi che questi soggetti potranno adottare la soluzione sussidiaria ente terzo. La soluzione sussidiaria ente terzo che cos'è? È appunto una componente di back office ente terzo che viene condivisa in sussidiarietà per l'appunto a tutti gli enti per garantire lo scambio di informazioni tra i back office SUAP, il catalogo e gli enti terzi. È una dotazione quindi di carattere gratuito in sussidiarietà ed è pensata per tutti quegli enti terzi che non hanno la disponibilità di dotarsi di una componente di back office ente terzo di mercato. Anche qui il sistema camerale ricopre un ruolo nella sua evoluzione nel sistema della soluzione sussidiaria perché appunto il Dipartimento di Funzione Pubblica che è il possessore di questa soluzione, nonché l'ideatore, ha incaricato il sistema camerale di realizzare questo strumento. Quali sono quindi i vantaggi di uno strumento come la soluzione sussidiaria ente terzo? La soluzione sussidiaria è un cosiddetto prodotto già pronto, quasi un chiave in mano per l'ente terzo perché appunto gli garantisce tutti gli elementi essenziali che è chiamato a svolgere, come vedevamo prima, un back office ente terzo. È un prodotto standard che garantisce implementazione, non richiede nessun effort nemmeno economico da parte dell'ente terzo. È già integrato direttamente con il sistema informatico degli sportelli unici. Ha una struttura leggera ma pur sempre appunto una struttura solida che quindi agevola anche la formazione per il suo utilizzo e ha un'automatizzazione del servizio attraverso la certificazione del processo. L'adesione alla sussidiaria come avviene? Quello che dicevamo prima è un ente terzo quando è chiamato a registrarsi all'interno del catalogo SSU e del sistema informatico degli sportelli unici. In primo luogo sarebbe chiamato a registrare e a chiedere una verifica tecnica della componente informatica che andrà a utilizzare. In questo caso questo procedimento viene svolto già dal sistema camerale nella sua realizzazione che si farà carico di questo passaggio. Prima della registrazione dell'ente terzo al catalogo viene richiesto solo di aderire effettivamente alla soluzione sussidiaria enti terzi. In questo caso è l'RTD, il responsabile di transizione digitale che accede alla piattaforma per la soluzione sussidiaria con uno strumento di autenticazione. Compila il form con alcuni elementi, l'anagrafica del legale rappresentante, l'anagrafica dell'ente terzo, dell'RTD stesso e dell'amministrazione che utilizzerà la soluzione sussidiaria. Una volta compilato questo form potrà effettuare il download e lo farà firmare digitalmente dal legale rappresentante e verrà poi caricato nuovamente e completo in tutte le sue informazioni sulla piattaforma online. Il sistema farà una verifica della veridicità delle informazioni che sono state inserite e appunto compilate da parte dell'RTD e nel caso di riscontro positivo verrà comunicata all'amministrazione il primo login per poi essere pienamente abilitato. In caso negativo verrà appunto notificata le anomalie e le diformità e queste potranno essere risanate attraverso una nuova compilazione. Una volta che anche in questo caso sarà ottenuto un parere positivo l'amministrazione potrà effettuare il primo accesso e verrà così evasa la piena adesione alla piattaforma. Una volta fatto appunto anche questo ultimo passaggio sarà possibile per l'ente terzo competente completare la propria registrazione sul catalogo andando quindi a indicare come componente informatica utilizzata di back office ente terzo la soluzione sussidiaria. Quindi quali sono i principali soggetti coinvolti proprio in questa fase? L'RTD, il legale rappresentante e l'amministratore del sistema e su questo c'è un elemento molto importante. L'utilizzo e la verifica di cui parlavamo anche poco fa è legata al censimento che l'ente ha compilato e completato all'interno del portale IPA in cui appunto deve essere indicato non solo l'RTD ma anche un dettaglio della struttura organizzativa e delle aree omogenee che andranno ad utilizzare lo strumento di soluzione sussidiaria. Questo perché vedremo tra poco quali sono gli scenari che sono previsti all'interno della soluzione sussidiaria. Viene comunque vincolato l'utilizzo e la realizzazione di una struttura organizzativa anche al suo interno ai codici IPA. Quindi è importante fare una verifica del dettaglio che è presente per il proprio ente all'interno del portale IPA prima di intraprendere questo percorso. La soluzione sussidiaria prevede infatti più profili attivabili, alcuni dei quali vanno a avere un ruolo compaiono a seconda della struttura organizzativa che si sceglie di definire all'interno della soluzione. Ci sono due profili che sono sempre previsti e sono i primi due. L'admin struttura ente che è il profilo che configura lo scenario organizzativo dell'ente nella soluzione sussidiaria ente terzo che non riguarda i soggetti che abbiamo appena visto anche se in enti con magari una struttura meno articolata possono ricoprire lo stesso ruolo. Pensiamo a un RTD che può essere anche una figura dirigenziale e l'admin struttura ente user che è il profilo che gestisce operativamente la struttura organizzativa che verrà adottata all'interno della soluzione sussidiaria e sceglierà e gestirà tutti i vari profili che verranno attivati al suo interno. Vedremo tra poco anche alcuni di questi scenari e uno di questi prevede la figura del operatore unico ovvero un profilo che si occupa dell'intero flusso di istruttoria. Diversamente con scenari organizzativi più articolati vedremo comparire altre figure e altri profili come ad esempio l'operatore assegnazione istanza che potrete immaginare è il profilo che gestisce l'assegnazione delle istanze ai vari profili sottoposti. Gli altri profili sottoposti sono appunto l'operatore istruttore quindi il profilo impegnato nel processo di istruttoria che può avere anche funzioni di controllo a seconda della sua posizione nella struttura o altrimenti l'operatore di controllo e di pre-controllo. Dicevamo quindi che ci sono vari scenari organizzativi che possono essere adottati all'interno della soluzione sussidiaria. Lo scenario organizzativo 1 è banalmente il più semplice e immediato. Troviamo i due profili di cui parlavamo anche prima, quelli che sono sempre presente, lo struttura ente e lo struttura ente user e poi il profilo del operatore unico, ovvero quel profilo che è abilitato a svolgere tutte le attività relative al processo di istruttoria. Quindi consulta le istruttorie, gestisce le richieste di integrazione e gli inoltri, consulta le integrazioni ricevute e inserisce anche le conclusioni fino all'ultimo inoltro. Queste attività negli scenari più complessi verranno svolte da varie figure e vari profili. Non voglio complicarvi e andarli a analizzare uno per uno, però questi sono gli altri scenari di cui parlavamo. Possiamo vedere come può esserci uno scenario lievemente più strutturato, quindi come lo scenario 2 in cui compare la figura dell'operatore che assegna le istanze e poi gli operatori istruttori e quindi l'insieme delle loro competenze fa il totale dell'operatore unico e poi gli scenari più complessi organizzativi. Quindi vediamo che c'è sempre un assegnatore istanze ma anche un operatore di controllo e un operatore di precontrollo come nello scenario 4 e infine sempre l'operatore istruttore. Questi scenari ovviamente sono a descrizione dell'ente terzo che andrà a utilizzare la soluzione sussidiaria e che quindi sulla base della propria struttura, delle proprie esigenze e anche delle proprie portate andrà a sviluppare il proprio scenario organizzativo che più aderisce alle sue esigenze e alla sua natura stessa. Dicevamo le funzionalità principali di questo strumento sono quelle garantite e richieste più che garantite dalla norma di cui abbiamo parlato prima, quindi ricevere le istanze, inoltrare le richieste di integrazione e riceverle, ricevere appunto queste integrazioni, comunicare e indire le, o meglio comunicare le indizioni di conferenza dei servizi. Questo perché? Perché la natura stessa della sussidiarietà quindi la natura della componente stessa della nostra soluzione sussidiaria è quella di garantire ciò che viene richiesto, quindi il proprio il minimo indispensabile ad ogni ente terzo affinché questo non possa essere svantaggiato nel suo accesso al sistema degli sportelli unici. Quindi benalmente un un pochino qual è il flusso che avviene per quanto riguarda la soluzione degli sportelli unici. Un operatore può ricevere l'istruttoria, assegnarla o prenderla in carico sulla base della struttura organizzativa che abbiamo visto poco fa, consultare questa istruttoria, scaricarla, è presente anche un sistema di reminder, lavorare, quindi svolgere pienamente e operativamente questa istruttoria e quindi poi fare un upload degli esiti finali o di eventuali richieste di integrazione fino all'elemento conclusivo di esito e quindi conclusione della istruttoria. Quindi un pochino per sintetizio. Scusa Giada, puoi ripetere questa? Questo? Sì, perché c'è uno stato del tuo linee che ha saltato qualche pezzo. Mi sentite? Forse Antonio è la tua che salta perché io Giada lo segui, l'ho sentita correttamente. Io vi sento bene ma sento lei saltare con la voce. Allora, va la mia, va bene. Sì, comunque ripetilo pure. Faccio esatto, un recap. Questo che è così importante. Sì, è sicuramente importante. Dicevamo, questo è il flusso che garantisce la soluzione sussidiaria, che è proprio gli elementi essenziali che sono richiesti per partecipare, quindi per entrare a pieno all'interno del sistema informatico degli sportelli unici. Quindi si parte dalla ricezione della istruttoria, l'assegnazione o la presa in carico sulla base del scenario organizzativo di cui abbiamo parlato poco fa. permette di consultare, di scaricare l'istruttoria. È presente anche un sistema di reminder, lavorare la propria istruttoria in off e quindi svolgere tutte le attività previste per l'ente nel procedimento in oggetto e infine ricaricare, quindi fare un upload degli esiti e dell'istruttoria o eventualmente fare richiesta di integrazione e alla fine dare questo esito conclusivo e concludere quindi pienamente l'istruttoria. Dicevamo quindi come strumento la soluzione sussidiaria, che cos'è e che cosa la rende comunque uno strumento strategico per l'ingresso degli enti terzi all'interno del sistema informatico degli sportelli unici. Un pochino lo dicevamo anche prima, la soluzione sussidiaria è uno strumento voluto dal Dipartimento di Funzione Pubblica. Perché? Perché il Dipartimento di Funzione Pubblica nella realizzazione del sistema informatico degli sportelli unici insieme agli altri partner si è reso conto della strategicità ma soprattutto dell'importanza degli enti terzi all'interno di questi procedimenti e di questi flussi e quindi ha voluto raccogliere le esigenze non solo un po' per censirle come abbiamo visto prima con la piramide ma per in pieno ascolto e quindi la necessità di questo dialogo con gli enti terzi per comprendere quali sono le esigenze pensiamo appunto ai sistemi di notifiche banalmente è uno dei piccoli esiti di questi sistemi di ascolto raccogliere le esigenze per raggiungere anche i quattro obiettivi che dicevamo all'inizio dare operatività, dare standardizzazione, dare digitalizzazione certamente ma senza complicare l'attività dell'ente terzo, senza metterlo in difficoltà ma accompagnandolo, affiancandolo, garantendo quindi lo svolgimento di tutte le azioni che è chiamato a compiere l'ente terzo e che sono previste oggi dalla norma la soluzione enti terzi per questo è uno strumento che in primo luogo è in grado di comunicare con i suap indipendentemente dalla soluzione informatica adottata questo perché è nativamente integrato all'interno del sistema SSU nasce proprio in funzione di questo nasce ovviamente standard e conforme alle specifiche tecniche ed è comunque uno strumento che risponde alle esigenze dell'ente terzo gli garantisce ogni azione e è pensato quindi in particolare per chi? per gli enti terzi che non dispongono oggi di un back office ente terzo di mercato o gestito da un ente di ordine superiore per tutti quegli enti terzi che all'avvio dell'SSU ricordiamo il 25 luglio 2025 non avranno completato l'adeguamento dei propri strumenti e back office ente terzo oppure per tutti quegli enti terzi che sempre al nostro 25 luglio 2025 non saranno registrati all'interno del nuovo ecosistema questo è un pochino il principio alla base della soluzione sussidiaria ovvero il principio di sussidiarietà andare incontro anche per un fine maggiore che è quello di garantire il funzionamento e la piena operatività del sistema informatico degli sportelli unici quindi andare appunto incontro a queste figure che non devono subire uno svantaggio nel loro ingresso in questo sistema sono tante cose, sono tanti elementi sono anche complessi, ne siamo anche noi consapevoli quindi un attimino magari riguardiamo quali sono i prossimi passi che gli enti terzi possono intraprendere già da oggi e in funzione poi di quelli di cui parlavamo prima per domani aderire alla soluzione sussidiaria in primo luogo quello che dicevamo che è molto importante verificare le proprie aree omogenee e gli propri uffici organizzativi all'interno del portale IPA in modo tale che ci sia un censimento completo e quando avverrà l'adesione alla soluzione sussidiaria questi possano essere poi abilitati all'utilizzo della soluzione sulla base dei vari profili che abbiamo visto prima ma è importante che a ognuno di questi ci sia un riferimento su IPA l'altro elemento che può essere verificato abbiamo visto che è fondamentale nel processo di adesione è quello dell'RTD sempre su IPA questi sono un pochino i prossimi passi per l'ente ma anche noi come sistema camerale, come gestori del catalogo e come realizzatori della soluzione sussidiaria abbiamo dei passi da intraprendere nel primo trimestre del 2025 infatti verrà messo in linea il sistema di accreditamento come dicevamo prima attraverso il portale impresa in un giorno ma verrà anche completata la soluzione sussidiaria enti terzi e quindi entrerà in esercizio anch'essa in parallelo a queste nostre milestone un nuovo passo anche per gli enti terzi l'accreditamento attraverso il portale imprese in un giorno al catalogo ma prima ancora l'adesione alla soluzione sussidiaria enti terzi l'ultima milestone che non è una milestone da poco per la scadenza dei 12 mesi ovvero il 25 luglio del 2025 adottare e o per essere pienamente operativi all'interno del sistema informatico degli sportelli unici per fare tutto questo ovviamente non vi diciamo solo tutte queste informazioni ma vi forniamo anche degli strumenti di supporto come gestore del catalogo il sistema camerale offre supporto alle pubbliche amministrazioni in varie forme per quanto riguarda gli enti terzi in particolare gli enti terzi che si occuperanno di adeguamento dei propri strumenti digitali si offre un servizio di integrazione con le API e invece a livello informativo per tutti gli enti terzi che utilizzeranno la soluzione sussidiaria avranno accesso anche al portale che verrà appunto poi reso operativo insieme alla soluzione dedicato proprio alla soluzione sussidiaria enti terzi oltre a questo portale che verrà attivato ce ne sono due che sono già attivi oggi il portale del catalogo SSU e il portale di supporto informativo per le pubbliche amministrazioni sono portali che sono gestiti appunto dal sistema camerale che raccolgono le domande più frequenti e quindi potreste già trovare oggi le risposte ad alcuni dei vostri dubbi in ogni caso però prevedono anche un sistema di sottomissione di richieste quindi potrete anche svolgere la vostra richiesta e ricevere una risposta sul tema sicuramente questa sarà utile per voi potrà essere utile per altri enti terzi che si troveranno nella vostra situazione e quindi potrà andare ad alimentare ulteriormente le famose domande frequenti che troverete appunto accedendo ai due portali non ci sono solo i portali del gestore del catalogo è un progetto molto importante che raccoglie più partner e non da ultimo come dicevamo prima è il dipartimento di funzione pubblica che ha il portale su APSUE dedicato proprio a questa digitalizzazione che raccoglie tutti gli elementi quindi non solo quelli di cui si occupa come abbiamo visto il gestore del catalogo ma anche ciò di competenza degli altri partner e poi abbiamo i portali in merito ai finanziamenti che appoggiano appunto sul portale PA digitale 2026 e un supporto invece proprio dedicato attraverso la mail un supporto in merito all'adeguamento delle specifiche tecniche di competenza di Agid sul proprio portale anch'esso con una sezione di ticketing e il supporto per le software house attraverso il portale GitHub ovviamente alcuni di questi nel momento in cui si andrà ad aderire e quindi utilizzare la soluzione sussidiari enti terzi non sarà necessario consultarli rimane comunque il portale informativo oggi già attivo del gestore del catalogo il portale informativo quello che vediamo evidenziato in arancione e verrà attivato insieme alla sussidiaria il suo portale dedicato io ho terminato spero che sia stato appunto utile e rimango a vostra disposizione per eventuali domande grazie mille Giada intanto vedo che sono arrivati altri colleghi ci sono già un paio di domande invitiamo tutti a farne altre vista l'importanza dell'argomento iniziamo Giada tu le riesci a leggere? io leggo due domande allora quello che possiamo dire è uno degli obiettivi principali del sistema informatico degli sportelli unici è uniformare i flussi di comunicazione e per farlo la scelta dei legislatori è stata quella di unificare anche il canale di comunicazione ed è proprio il senso del catalogo stesso affinché i flussi di comunicazione avvengano solo attraverso le componenti quindi solo attraverso appunto le componenti di SUAP ma anche le componenti di back office ente terzo proprio perché per eliminare o meglio non proprio per quello però verrà certamente meno la comunicazione via PEC perché rimarrà valida come a livello proprio di comunicazione solo quella attraverso le componenti ogni software house che oggi fornisce uno strumento di scrivania ente terzo un back office ente terzo qualsiasi sia diciamo un pochino la sua definizione oggi è stato anche informato delle nuove specifiche tecniche quindi io direi che questa piccola verifica può essere fatta interrogando il proprio fornitore sullo stato di adeguamento alle specifiche o anche appunto su eventuali nuovi avanzamenti dello strumento se ricordiamo un ente terzo non si adeguerà o non si adeguerà in tempo per il 25 luglio oppure sceglierà di non adeguare il proprio strumento o non riuscirà a registrarsi in tutti questi casi interviene proprio la natura sussidiaria della soluzione di cui abbiamo parlato e quindi potranno utilizzare la soluzione sussidiaria anche in forma transitoria quindi anche solo per il periodo necessario al proprio fornitore per adeguare lo strumento che viene utilizzato certo è che lo strumento deve essere comunque uno strumento conforme quindi o la soluzione sussidiaria oppure uno strumento di gestionale o comunque uno strumento che rispetti le specifiche tecniche per questo motivo la PEC non rientra in questi casi spero di aver risposto pienamente la io direi di sì poi Marilena Isolani questa è la domanda non so se sappiamo rispondere un po' più di senso ampio allora per le aziende imprese uffici che collaborano all'istruttore insieme all'ente ne cita uno che è Abbaco non sono enti pubblici ma collaborano con l'ente per cui io lavoro come potranno interagire Allora c'è un un elemento da considerare quando un ente quando un soggetto ha una competenza all'interno di un procedimento si tratta comunque per noi di un ente terzo quindi se ha una diretta competenza la natura pubblica è un pochino variabile porto l'esempio delle società che offrono servizi idrici alcune di queste che appunto noi le consideriamo magari non dei soggetti pienamente pubblici ma queste possono anzi dovrebbero essere censite hanno questa possibilità all'interno del portale IPA vengono riconosciuti pienamente come enti competenti e quindi anche per loro vale un pochino tutto questo questo percorso di cui abbiamo parlato oggi io non so se è il caso specifico di questa domanda magari poi anche con le camere che sicuramente conoscono maggiormente il panorama si può fare una verifica posso aggiungere una cosa su questo punto Giovanni e Giada allora dipende dalla natura del rapporto che c'è fra il comune e l'ente che va a gestire il servizio allora se c'è una concessione di servizio quindi nel caso giustamente avete citato delle imprese che non so concessionarie per quello che riguarda la competenza degli scarichi eccetera sono considerate enti terzi perché una concessione di servizio si interfacciano direttamente se Abaco ad esempio questo esempio che fanno alla concessione del servizio è altresì anch'esso ente terzo e quindi deve interfacciarsi con le dinamiche che nelle stesse modalità che voi avete spiegato altrimenti dovrà lavorare su una parte dell'istruttoria quindi una fase dell'istruttoria rapportarsi con il comune in qualità di ente competente il quale sarà a sua volta inserito nell'SSU come ente terzo quindi dipende dalla natura del contratto che si stipula fra il comune e l'ente e l'ente sì Abaco è un po' una cosa che infatti hanno nella domanda c'era scritto svolgiamo parte dell'istruttoria quindi lì poi bisogna vedere come si sviluppa proprio il procedimento ok grazie Silvia per il chiarimento poi una domanda di Barbara Pernicotto come avverrà la notifica dell'assegnazione della pratica all'ente terzo attualmente come sopra già segnalato a mezzo pec dell'ente terzo sì dicevamo forse anche prima quando parlavamo dell'ascolto che è stato fatto anche delle necessità degli enti terzi la soluzione sussidiaria ente terzo avrà un proprio sistema di pop up è anche possibile prevedere un set di mail che andranno quindi a informare di queste di queste istruttorie comunque di queste assegnazioni delle pratiche all'ente terzo quello che è importante è che poi venga gestito il flusso all'interno quindi un sistema di notifica è previsto anche per la soluzione ovviamente poi questo vale per la soluzione sussidiaria ente terzo ma ogni back office ente terzo che verrà sviluppato e che sarà conforme alle specifiche tecniche potrà prevedere delle proprie soluzioni se per te va bene Giovanni rispondo anche alla seconda domanda forse una cosa che non abbiamo stressato abbastanza l'ha detto prima anche la dottoressa Libanora anche gli enti anche i comuni sono enti terzi perché noi pensiamo al comune solo nella veste del suop ma questa forse è una delle sfide più grandi che ci richiede il nuovo sistema informatico è quello di ricordarci della divisione che c'è anche all'interno di un ente stesso dei ruoli perché il comune ha certamente il ruolo del 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 suop ma soprattutto il ruolo di ente terzo perché è un ente competente per moltissimi procedimenti e quindi anche gli uffici comunali ogni singolo ufficio comunale che è chiamato appunto come ente terzo competente in un procedimento è tenuto a dotarsi di un back office ente terzo sulla soluzione sussidiaria quello che possiamo dire è indicando la struttura organizzativa in tutta la sua completezza all'interno di IPA sarà possibile per il comune aderire alla soluzione sussidiaria e indicare quindi tutti gli uffici comunali che andranno ad utilizzare lo strumento rendendolo quindi disponibile per tutti gli uffici comunali previsti e desiderati quindi sì assolutamente è importante ricordare che l'ufficio comunale non suop ha comunque un ruolo all'interno del sistema informatico ed è quello dell'ente terzo che non è certamente un ruolo da poco esatto infatti questo è un punto non sottovalutare perché attualmente è un po' lasciato alla libera scelta di ogni organizzazione chi lavora esclusivamente sulla scrivania condividendosi il ruolo di suop e il ruolo di istruttore chi comunica con i colleghi tramite PEC qualche comune ha già in utilizzo la scrivania niente terzo adesso diciamo c'è questa libertà di scelta organizzativa il nuovo sistema ci dà dei vincoli in più che però saranno sicuramente delle virtù che ci aiutano a gestire al meglio l'istruttore delle pratiche vi aiuteranno non vorrei allontanarmi troppo dall'argomento ma proprio anche la suddivisione tra il front office e il back office è importante riguardo al comune ma sono tutte opportunità per i soggetti in questo caso per i comuni di dotarsi degli strumenti che maggiormente aderiscono alle esigenze e alle caratteristiche del comune garantiscono la tutela degli investimenti che questi enti hanno fatto nel tempo pensiamo quindi alla salvaguardia degli strumenti di mercato che i comuni hanno scelto di utilizzare nel tempo e infatti anche attraverso i finanziamenti viene garantito questo processo e appunto con la comunicazione attraverso il catalogo si cerca di uniformare anche la relazione con gli altri enti lascio la parola e microfono spento sì scusa volevo solo sottolineare questo punto perché effettivamente sfugge cioè l'ente comune ha questa doppia faccia che ad oggi soprattutto nei casi comuni piccoli è un po' difficile da individuare perché sono le stesse persone che si occupano sia di swap che magari di istruttoria invece lo sforzo proprio va in questa direzione cioè intanto chiarire che sono due vesti diverse anche se dovessero essere incarnate negli stessi funzionari però bisogna ragionare proprio scindendo le competenze ciò che è swap e ciò che è ente competente per l'istruttoria dell'endoprocedimento fatta questa prima diciamo distingo importante cercando di analizzare la struttura dell'ente e quindi cercando di farla aderire se si va verso la soluzione sussidiaria ma anche se non si dovesse andare verso la soluzione sussidiaria farla aderire a quelli che sono gli schemi organizzativi che avete mostrato cioè possono esserci schemi complessi o semplici ma sempre si diciamo raffrontano col ragionamento iniziale cioè il swap da una parte e l'ente competente con le sue varie di ramazioni in uffici dall'altra parte quindi questo ragionamento di fondo e poi la lettura di come è organizzato e come se si vuole mantenere la stessa organizzazione o se questa sia un'occasione per ripensare all'organizzazione interna considerate che l'appuntamento precedente con la relazione molto complessa e anche molto esaustiva dell'ingegnere Bernecchle ha evidenziato questi aspetti entrando molto molto nel dettaglio cercando di fare un ragionamento proprio sulle non solo valutazioni organizzative ma anche sulle esigenze e su questo nessuno di noi può dare una soluzione solo indurvi a fare una riflessione il ragionamento perché ogni ente sia ente terzo sia comune in qualità di ente terzo ha una propria caratteristica ha proprie caratteristiche e quindi dovrà adeguare l'organizzazione ad esse prego e vediamo se ci sono altre domande ne faccio io una o meglio chiedo io una cosa la protocollazione questa è una domanda che molti si pongono perché chiaramente cambiando il tipo di flusso non più mezzo pecc in cui si si è abituati ovviamente ma la protocollazione esiste non esiste eccetera chiariamo questo argomento fin dove ovviamente possiamo arrivare in questo momento anche a costo di ripetermi di sembrare una forte sostenibilice ma un po' è anche così questo è uno degli elementi di cui forse non abbiamo parlato abbastanza prima quando parlavamo della fase di ascolto del Dipartimento di Funzione Pubblica degli Enti che comunque è una fase che non è solo preliminare oggi è conclusa il Dipartimento di Funzione Pubblica è in continuo ascolto non solo degli enti più vicini a loro penso ai ministeri a tutte le loro diramazioni ma anche degli enti più più locali il protocollo è sicuramente uno degli elementi che maggiormente gli enti hanno sottolineato come necessità come esigenza per l'ente e quindi insieme ad Agid che ha definito la struttura della soluzione sussidiaria e al Dipartimento di Funzione Pubblica si è pensato di prevedere anche un elemento di integrazione con i protocolli degli enti quindi con le evoluzioni anche della della soluzione sussidiaria stessa sarà previsto quindi un'integrazione con il protocollo degli enti spero di aver risposto infatti una cosa che bisogna ricordare è questo cioè il numero di enti di uffici coinvolti superano i 25 mila solo di entità ci sono gli 8 mila comuni o meglio 8 mila suap e quindi chiaramente si tratta di un qualcosa assai complesso che via via nel tempo evidenzia le varie difficoltà e in effetti parte dell'attività di ascolto di funzione pubblica ha portato appunto a un cambiamento continuo e quindi anche per esempio questa scrivania via via come si sta evolvendo è proprio una risposta è un adeguamento proprio per non lasciare nessuno indietro anche perché teniamo presente che quelle date non sono rinviabili perché rientra tutto nel processo degli obiettivi PNRR inoltre altra cosa da ricordare questo percorso non finisce a luglio del 2025 perché poi proseguirà per un altro anno perché poi sarà da fare un percorso di digitalizzazione e quindi di e di medesimo tipo di comunicazione tra in quel caso saranno sue e enti terzi per quanto concerne la parte di dizia quindi rendiamoci conto che questo è un processo in un certo modo in divenire proprio perché si cercano tutte le soluzioni per evitare e per alleggerire i compiti delle amministrazioni che sono coinvolti in questo percorso di transizione grazie grazie sì perché ha sottolineato un elemento molto importante quindi sì grazie ancora c'è un altro elemento importante la conservazione a norma aggiungo io della documentazione sarà effettuata una sola volta oppure ogni ente dovrà gestire la sua allora questo è un elemento un pochino più complesso nel senso che anche la protocollazione è un elemento a parte perché conservazione e protocollazione non sono elementi che sono trattati ma proprio a livello normativo dai riferimenti giuridici e normativi del sistema informatico degli sportelli unici quindi non sono elementi di sua immediata competenza per la protocollazione abbiamo detto che verrà previsto per venire incontro agli enti terzi nella soluzione sussidiaria una integrazione eventuale con i propri protocolli e qui mi aggancio anche alla seconda domanda nasce compatibile ma sarà un'integrazione da concordare con i gestori appunto dello strumento però è una soluzione possibile e percorribile per quanto riguarda invece la conservazione c'è un altro elemento che è appunto quello che dicevamo la conservazione non viene trattata a livello normativo dai riferimenti delle specifiche tecniche dell'allegato o dal dpr 160 è un'attività in capo all'ente quello che fa e può fare il sistema informatico degli sportelli unici in questo senso è ridurre il debito informativo perché viene garantita l'alimentazione ad esempio del fascicolo di impresa e comunque prevede questo debito informativo che va riducendosi quindi non agisce direttamente in ambito di conservazione ma possiamo dire che un po' supporta questo percorso di certo non l'ostacola sottolineiamo però che non è un ambito di competenza dello sportello e quindi anche quello prevede magari eventuali integrazioni che vanno discusse con i propri fornitori lascio la parola alla dottoressa di Banora che vedo la mano alzata la domanda sulla domanda della soluzione sussidiaria il sistema sussidiario nasce compatibile perché corrisponde alle nuove indicazioni dell'allegato tecnico quindi per forza di cose nasce con questa compatibilità la domanda da farsi è il nostro sistema del protocollo quindi dei singoli enti è compatibile con la SSU e quindi con il sistema sussidiario cioè questa è la domanda che gli enti terzi dovranno da adesso in poi imporsi e attivarsi per capire e per indagare quindi se le loro software house stanno aggiornando quindi i loro fornitori di gestionali che siano protocollo che siano gestionali quindi dei diversi uffici per l'istruttoria degli endoprocedimenti se questi strumenti siano in corso di adeguamento rispetto al sistema che stiamo mettendo in atto questa è la vera domanda ed è questo il quesito che vogliamo lanciarvi perché poi voi lo rimandiate alle vostre software house anche con l'ausilio delle informazioni che troverete nei portali di supporto che vi hanno mostrato nelle slide quindi è molto importante che facciate questa prima verifica per poi fare tutte le considerazioni che vi avevo anticipato prima che riguardano l'organizzazione perché dovrà essere compreso qual è il punto di aggancio del sistema SSU con l'ente terzo quindi laddove sia possibile e laddove sia effettivamente integrabile per quello che riguarda la conservazione a norma ovviamente tutto corretto ciò che ha anticipato Giada c'è un'evoluzione normativa che riguarderà il fascicolo di impresa c'è è uscita una disciplina generale ma poi rimanda a una disciplina di dettaglio con la quale probabilmente si risolveranno proprio alcuni quesiti che riguardano l'archiviazione a norma e perciò il quadro si completerà anche con questa disciplina di dettaglio concernente fascicolo di impresa prego vediamo se ci sono altre domande intanto vi ricordo che continueremo il discorso legato al sistema degli sportagli unici al catalogo durante il webinar del 26 novembre che è l'ultimo webinar dedicato ad operatori denti su app poi come sempre continueremo la formazione anche verso imprese professionisti che hanno bisogno anche loro di essere aggiornati giustamente vediamo oggi poche domande tanto forse potrebbe essere interessante già da se puoi ripercorrere le differenze tra il modello di comportamento che dovranno adottare gli enti che hanno attualmente la scrivania ente competente ente terzo e chi invece adotta soluzioni autonome allora la soluzione sono differenze la scrivania ente terzo che viene fornita oggi dal sistema camerale rientra un pochino in una di quelle facciamo magari rivedere la piramide rientra in quelle scrivanie di cui abbiamo parlato prima che non sono attualmente arrivo subito subito con questa ok dovreste vederla si confermo ok la scrivania ente terzo oggi rientra nell'8% nella fascia centrale che è la fascia che utilizza sì oggi uno strumento digitale che non è l'inoltro via BEC ma non utilizza comunque uno strumento api ready che quindi per la quale è prevista un adeguamento alle soluzioni previste dalle specifiche tecniche quindi un pochino cosa accadrà alla scrivania ente terzo per quanto riguarda il SUAP a partire dal 25 luglio 2025 non riceverà più le pratiche SUAP ok quindi solo SUAP e per quelle l'ente sarà chiamato o ad adottare la soluzione sussidiaria ente terzo oppure a scegliere una soluzione di mercato come sulla base appunto delle proprie esigenze possibilità e preferenze la scrivania ente terzo non verrà immediatamente dismessa anche perché che immagino accada anche sul territorio veneto viene utilizzata per più sportelli penso non alle ZES ma probabilmente alle ZLS ma i SUE anche e quindi semplicemente smetterà di essere operativa in ambito SUAP concederà i tempi previsti per la conclusione delle istruttorie che sono pervenute prima del 25 luglio 2025 quindi concederà comunque di chiudere diciamo le pratiche tutte le attività che sono aperte perché non ci sarà una migrazione delle pratiche proprio perché non non c'è questo legame tra la scrivaniente terzo camerale e la soluzione sussidiaria quindi verrà garantita la chiusura delle pratiche già aperte semplicemente smetterà di riceverne e quindi per quelle nuove sarà necessario per l'ente dotarsi di un nuovo strumento sia un back office ente terzo di mercato sia appunto la soluzione sussidiaria per gli enti terzi diciamo che questa è una transizione poi se pensiamo anche ai tempi sarà una breve transizione da quel punto di vista però comunque appunto è previsto questo questo passaggio questa chiusura si chiude un pochino quel canale su app sulla scrivaniente terzo e si apre sulla sussidiaria o o altrove quindi come dicevamo la scrivania rientra in quel 98% insieme al 90% grigio a cui è destinata tra le opzioni anche la soluzione sussidiaria ente terzo ovviamente lo dicevamo anche prima la soluzione sussidiaria è disponibile per il 100% perché anche quel 2% che oggi ha delle soluzioni api ready è chiamato a compiere una scelta e questa può essere o adeguare la propria componente di back office alle specifiche e potrebbe nell'eventualità non riuscire nei tempi previsti quindi non riuscire entro il 25 luglio 2025 e quindi potrà adottare la soluzione sussidiaria in forma transitoria oppure semplicemente potrebbe anche scegliere di adottarla definitivamente e quindi proseguire con la soluzione sussidiaria grazie mille per il riepilogo Giada vediamoci una domanda alla Stefania Marcomini o Marcomini quindi nel nuovo sistema nella sussidiaria non potremmo trovare pratiche storiche archiviate con il vecchio sistema allora per quanto riguarda scrivania ente terzo e soluzione sussidiaria no perché non c'è continuità non so rispondere nel merito della conservazione dell'archiviazione storica per la scrivania ente terzo perché purtroppo non è un elemento di cui ci occupiamo noi come team quello che posso dire a livello di specifiche è le specifiche non le specifiche non sono limitanti quindi non impediscono che un back office ente terzo che è attualmente già operativo possa evolvere e prevedere la conservazione del suo storico quello che possiamo dire però è che la soluzione sussidiaria è una soluzione completamente nuova nasce insieme all'SSU e quindi non ha uno storico sulla conservazione io quello che mi sento di suggerire è di fare una conservazione in questo senso del proprio archivio delle pratiche dello storico è di fare una verifica con i propri fornitori lascio la parola sì io avevo fatto una domanda su questa questione specifica rimarrà comunque consultabile la scrivania precedente quindi il recupero delle pratiche storiche dovrebbe essere possibile anche perché rimarrà per tutto un ambito l'edilizia eccetera quindi la consultazione avverrà sulla da come ho compreso da quella spiegazione che mi è stata data sulla scrivania precedente quella nuova servirà per le nuove pratiche ma ovviamente non verrà chiusa e non più consultabile certamente ci sarà la possibilità di accedervi e fare le dovute consultazioni ok poi c'è una domanda simile Federica Ballotto forse la collega lavora per un su app ci sarà continuità di scrivania su app oppure ci sarà una fase di transizione in cui accedo alla scrivania su app vecchia e quella nuova quindi una domanda simile ma lato scrivania su app ok quindi parliamo proprio nel dettaglio di su app quindi front office su app e back office su app corretto sì sì in questo caso gli strumenti del sistema camerale quindi la piattaforma sua di impresa in un giorno verrà adeguata alle nuove specifiche tecniche è prevista continuità perché appunto come dicevamo viene adeguata quindi non viene creato un back office su app nuovo questi però sono elementi anche in fase di definizione perché appunto anche il suo app camerale è chiamato ad adeguarsi alle specifiche tecniche ha sicuramente il vantaggio di essere molto più vicino a queste di altre piattaforme presenti però anche adesso è richiesto un adeguamento quindi credo che sarà sicuramente un elemento che possiamo approfondire e sarà magari questa domanda ce la segniamo e la verifichiamo con i colleghi che si occupano dell'adeguamento del back office e del front office su app magari possiamo rispondere poi anche successivamente possiamo fare due domande che riguardano la scrivania ente terzo precedente e quella poi sussediaria e che riguardano lato su app quindi scrivania su app precedente e poi cosa succede dopo i quesiti diciamo sono i due ambiti di interesse sono questi c'è anche la dottoressa Bozzoli che vuole intervenire hai alzato la mano sì scusate ritardo ho visto che ci sono due mani alzate tra i partecipanti non so se li avete già trattati se hanno già presentato in genere sono alzate per sbaglio quindi allora chi avesse alzato la mano purtroppo non è possibile parlare durante l'incontro dovete scrivere le domande nell'apposita sezione io volevo chiedere così in base all'esperienza che ha Infocamere se un ente terzo parte oggi a volere creare questo nuovo sistema gestionale compatibile qual è la tempistica ragionevole per installare questo gestionale considerando che qualcuno magari parte da zero cioè quanto tempo devono preventivare per essere sicuri di essere a posto per il 20 per luglio insomma per il metà luglio è una domanda complessa nel senso che a livello di sviluppo queste sono tempistiche che definisce un pochino il fornitore sulla base delle sue disponibilità quello che possiamo dire in termini di tempistiche è che la la registrazione del lente che sia utilizzando la sussidiaria o un'altra piattaforma un altro back office ente terzo deve essere svolta entro il 25 luglio 2025 considerando che il processo di verifica tecnica Cuba più o meno 30 giorni io direi che deve essere svolto entro la fine di giugno 2025 mettiamo che per qualche motivo qualcuno sia in ritardo cosa succede dopo il 25 viene accettato lo stesso il 26 per dire oppure no allora una delle previsioni che è stata fatta da DFP e da Agid quindi dal dipartimento di funzione pubblica e comunque dal partner di progetto che ha definito i flussi tecnici dell'SSU è che venga assegnata tra grandi virgolette mettiamolo d'ufficio la soluzione sussidiaria in che modo quando parlavamo di popolamento dicevamo che l'anagrafica di un procedimento prevede anche tra i tanti elementi e tra questi anche l'ente che è competente del procedimento quindi il catalogo ha per sé l'informazione di qual è l'ente competente per il procedimento che viene svolto se non trova al suo interno nella sua anagrafica l'ente terzo competente come uno degli enti registrati probabilmente anche attraverso dei sistemi di supporto del back office SUAP andrà a interrogare via PEC un ente terzo ma non garantendo il flusso di comunicazione attraverso la PEC semplicemente segnalando che questo ente è chiamato a svolgere un'attività ha un ruolo all'interno dell'SSU e deve entrare all'interno dell'SSU per poterlo svolgere attraverso in questo caso la soluzione sussidiaria e quindi verrà chiamato ad utilizzare la soluzione sussidiaria e a completare poi la registrazione a questa o a un'altra componente attraverso il sistema SSU insieme al protocollo questi sono elementi che non sono stati definiti fin dall'inizio dai documenti di progetto è una delle esigenze che è nata attraverso appunto l'ascolto dell'analisi del panorama degli enti terzi quindi è anche uno di quegli elementi che verrà trattato con le prossime evoluzioni delle specifiche tecniche attualmente il documento che è presente anche su in gazzetta ma proprio quello che viene trattato per l'adeguamento è il documento delle specifiche tecniche originale quindi il primo che è stato pubblicato a novembre del 2023 è prevista un'evoluzione perché come immaginerete anche la messa in pratica di tutto questo ha sollevato alcune nuove necessità tra cui queste due di cui abbiamo parlato quindi questa soluzione d'ufficio ma anche il tema del protocollo e quindi queste avranno poi un'integrazione anche tecnica e normativa attraverso la nuova versione delle specifiche tecniche il senso un pochino di quello che abbiamo detto oggi è che è bene fare le proprie scelte piuttosto che magari subire una scelta in sussidiarietà quindi l'invito spassionato è quello per ogni ente di svolgere la registrazione anche per quello che dicevamo in merito al portale IPA per poter definire poter avere controllo e gestione di quale sia la struttura IPA che verrà poi registrata e a cui si farà riferimento e quindi io suggerirei appunto di non subire passivamente le dinamiche d'ufficio ma di prendere in mano appunto la propria anche rappresentazione sul portale la propria struttura e fare una registrazione ovviamente questo vale anche per i swap ma valeva anche nella precedente ecosistema ogni scelta può cambiare quindi la registrazione si è richiesta inizialmente ma è una registrazione che può subire delle variazioni l'esempio della soluzione transitoria se oggi un ente vuole dotarsi di uno strumento di back office ente terzo ma non ne ha i tempi può fare una prima registrazione in questo caso utilizzando la soluzione sussidiaria e un domani quando avrà per sé il proprio back office ente terzo adeguato alle specifiche tecniche potrà andare a variare questo elemento nell'anegra e quindi registrarsi con il nuovo strumento in dotazione spero di aver risposto alla domanda sì sì volevo capire la soluzione sussidiaria quindi non sarà molto diversa dall'attuale scrivania ente terzo o sarà completamente diversa a livello grafico non le so rispondere a livello di contenuti quello che le posso dire è che la 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 scrivania sussidiaria la soluzione sussidiaria ente terzo garantisce tutte le attività che è certamente una cosa che fa anche oggi la scrivania ente terzo una sola precisazione la scrivania ente terzo oggi è uno strumento che viene fornito prevede anche magari variazioni dettagli cambiamenti sulle esigenze e sulle preferenze dell'ente il senso dello strumento che invece sarà la soluzione sussidiare ente terzo è che sia uno strumento di base una sussidiarietà e quindi non prevederà al netto dell'integrazione con il protocollo personalizzazioni per gli enti che ne usufruiranno quindi avrà le sue funzioni standard e quindi in caso di esigenze particolari dell'ente queste non potranno essere assolte attraverso modifiche da compiere sulla sussidiaria e questo sarà un motivo in più per muoversi per avere un gestionale autonomo personalizzato non potendo appunto modificare in alcun modo quello che verrà dato d'ufficio eventualmente probabilmente sì se diciamo che il senso del sistema informatico degli sportelli unici è che ogni esigenza venga assolta pur limitandosi ad alcuni elementi base che invece devono essere comuni a tutti che sono quelli definiti nelle specifiche tecniche lascia quindi la libera scelta di per gli enti così come per i suap di scegliere quale strumento utilizzare per poter lavorare all'interno dell'ecosistema certo è che la logica che sta dietro alla soluzione sussidiaria è quella di garantire diciamo un pochino l'esperienza base dopodiché appunto ogni dettaglio invece è lasciato più a un discorso di di scelte anche di back office proprie di sviluppo di nuovi strumenti di adeguamento di strumenti già già in uso bene grazie sono arrivate delle domande quindi lasciamo spazio le domande iniziere da quella di Michele Valbusa attualmente come ente terzo non utilizziamo la scrivania su app ma solamente la PEC conviene aderire già adesso alla scrivania attuale ente terzo e quindi passare poi alla sussidiaria oppure direttamente alla sussidiaria allora la scrivania su app e la scrivania ente terzo sì ho sbagliato no 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 solo per per correttezza per essere per essere chiari allora le scrivania ente terzo sono attivabili perché sono comunque degli strumenti ancora in uso lo dicevamo anche prima lo hanno ricordato anche le camere sono degli strumenti che vengono utilizzati anche nell'ambito di altri di altri sportelli come il sue quindi è sicuramente uno strumento utile è chiaro si vede già dalla domanda che sì un domani però sarà prevista l'adesione alla sussidiaria quindi non ci sarà continuità non ci saranno automatismi anche nelle adesioni e nell'utilizzo delle scrivanie passare dalla PEC alla scrivania ente terzo forse può essere d'aiuto per familiarizzare meglio con le dinamiche fuori PEC e dentro degli strumenti di scrivania però ecco è ancora possibile attivare delle scrivanie ente terzo almeno da quello che sappiamo noi ti confermo sono attivabili e consigliate soprattutto agli enti che non hanno dimestichezza con il sistema perché li introducono in un mondo e così il passaggio forse viene facilitato poi per cui però va detto che per attivare la scrivanie ente terzo è necessario avere una PEC dedicata quindi non una PEC qualsiasi di utilizzo corrente ma una PEC dedicata e quindi magari questo potrebbe essere un punto in questa fase un po' più da valutare ecco però sì le abbiamo attivate anche di recente ok quindi possiamo invitare tutti i partecipanti a richiedere l'attivazione qualora abbiano la possibilità di dedicare una PEC esclusivamente alla scrivanie ente terzo invece Fabio Analesso ci riporta all'interno di un comune e provo a fare una sintesi e spero di aver capito bene la domanda all'interno di un comune si potranno attivare più di una scrivanie ente terzo magari per l'ufficio tecnico per l'ufficio commercio e altri uffici che competono all'interno di un procedimento SUAP di una pratica SUAP allora come dicevamo prima il comune non è solo SUAP ma è anche ente terzo però non è un ente terzo unico è più enti terzi ogni ufficio ha la propria competenza su più materie e quindi ognuno funge un pochino da ente terzo proprio c'è una differenza in come viene gestita questa cosa ed è che nella registrazione si fa riferimento ai codici IPA quindi fondamentale è che tutti questi diversi uffici che sono presenti e che sono attivi in ambito SUAP all'interno del comune siano censiti all'interno di IPA e che quindi ognuno di questi abbia un riferimento il che non vuol dire che l'ufficio commercio deve essere censito su IPA separatamente dagli altri uffici semplicemente nella pagina IPA del comune verranno individuati i vari uffici o come aree omogenee organizzative oppure come uffici organizzativi questo è sicuramente un elemento che voi conoscete meglio di noi a ognuno di questi sotto insiemi vengono assegnati dei codici IPA e sono questi quelli che ci servono nelle fasi di registrazione quindi quando si parla di utilizzo di back office enteterzo di soluzione sussidiaria nella registrazione si può indicare per i singoli uffici qual è lo strumento che viene utilizzato non entro nel merito delle soluzioni di mercato perché comprenderete non ne abbiamo piena conoscenza e soprattutto non è di nostra competenza quello che vi posso dire per la soluzione sussidiaria è che questo è proprio il caso delle strutture organizzative che vedevamo prima tanto più è complesso lo scenario organizzativo all'interno dell'ente tanto più si può andare a definire nel dettaglio la struttura organizzativa della soluzione sussidiaria quindi anche la divisione dei vari uffici delle varie competenze è possibile c'eravano se ricordate i vari profili che possono essere attivati le varie strutture che possono dividere quindi c'erano le assegnazioni di istanza quindi possono assegnare le diverse istanze ai vari uffici di competenza e all'interno dei vari uffici può esserci un'intera struttura di verifica assegnazione e di istruttoria io spero di aver risposto però appunto sottolineare questa cosa è importante sulla suddivisione anche interna proprio dei comuni censita su IPA ma è che è anche replicabile all'interno degli strumenti è un po' il ragionamento che si diceva prima ognuno deve guardare in casa propria come è costruita l'organizzazione se la vuole mantenere costruita così o la vuole modificare e quindi capire quali sono trovare i punti di contatto con l'SSU cioè quale vuole essere il punto di contatto un unico punto di contatto come ente terzo comune oppure più punti di contatto come singoli uffici che compiono l'istruttoria e il procedimentale e a quel punto deve diciamo iscrivere in IPA con i relativi codici i vari uffici per poi poter accedere all'accreditamento un SSU con i diversi punti di contatto se sono più di uno e congiuntamente scegliere lo strumento quindi o la scrivania sussiliaria o uno strumento differente che però deve essere comunque corrispondere alle nuove indicazioni tecniche quindi il ragionamento è proprio questo dovete fare un'analisi e poi vederne l'analisi della situazione attuale capire se mantenere la situazione attuale o modificarla e farla corrispondere quindi iscriverla correttamente all'interno del portale IPA per poi avere i relativi codici che vi saranno richiesti nella fase di accreditamento e magari il ragionamento non è così semplice perché penso che molti di coloro che ci stanno ascoltando non conoscano bene il portale IPA di solito all'interno degli enti di questa parte si occupa magari la segreteria gli uffici che si occupano proprio del sistema di organizzazione dell'ente quindi i nostri uditori che sono quasi sempre funzionari operatori dei swap degli enti terzi non hanno contezza di questi aspetti però vi invitiamo ad analizzare perché è utile poi per queste fasi successive quindi rapportatevi con gli enti con gli uffici che all'interno del vostro ente si occupano di questa questione proprio della iscrizione in IPA è utile anche all'esterno comunicare qual è l'ufficio che segue il swap di solito è un dato negli enti terzi che non compare nei siti della questura dell'ASL invece per il cittadino che ormai si sta abituando a questo termine dello sportello unico sarebbe utile anche capire qual è l'ufficio di riferimento c'è anche un'altra domanda parto dall'alto sul back office allora il back office sulla base della piattaforma swap che oggi viene utilizzata io non entrerei nel merito lascerei quindi al fornitore magari di definire quali saranno i cambiamenti e quali invece saranno le continuità mi preme sottolineare solo una cosa la data di definizione di operatività dell'SSU non è il 25 luglio del 2026 ma 2025 quindi deve essere svolto entro il 2025 swap soprattutto per quanto riguarda il giugno 2026 quella è la scadenza assoluta del progetto ma il progetto prevede anche la digitalizzazione del sue quindi quello che presumiamo è che ci sarà una fase successiva dedicata al sue il swap invece ha come scadenza il 2025 che è luglio 25 luglio 2025 non entro come dicevamo nel merito del lato back office swap quello che posso dire è che le pratiche swap verranno inviate alla sussidiaria sì o alle altre strumenti che verranno utilizzati dall'ente sul sue se non sbaglio anche oggi sono già presenti alcuni strumenti anche quelli verranno adeguati alle specifiche tecniche in una in una fase successiva del progetto quindi decadrà l'utilizzo della PEC anche per per il sue in futuro quel futuro è sicuramente dopo il 2025 però è un futuro anche questo abbastanza prossimo su cui però oggi non abbiamo questi dettagli perché si stanno ancora discutendo le operatività proprio della digitalizzazione anche del sue oggi siamo concentrati sullo sportello sue sui template riguarda i singoli strumenti quindi non posso rispondere è un'altra cosa che sicuramente il suggerimento può essere di verificare tutti questi cambiamenti con i propri fornitori perché sicuramente sono degli elementi che spetta a loro in primis la scelta di continuità o di cambiamento quello quello che mi sento di dire è che le specifiche tecniche vanno a definire solo degli obblighi proprio primari di comunicazione di informazione di interazione poi ogni servizio aggiuntivo che gli operatori i fornitori di servizi hanno sviluppato nel tempo anche in relazione e le esigenze degli enti nulla è limitato ecco solo l'uso della PEC ma appunto tutto è possibile anche nel futuro purché rispetti le linee definite dalle specifiche tecniche già lo vediamo anche quando vediamo i cosiddetti template nel back office di un SUAP cioè il back office di un SUAP è costruito in base alla normativa attuale e quindi quello poi quelli sono dei servizi aggiuntivi che sono stati inseriti almeno per chi usa il portale camerale in aggiunta da infocamera come agevolazione ma non rientrano appunto nella gestione della normativa è solo uno strumento di semplificazione quindi presumibilmente poi per quanto concerne quelli che sono i back office SUAP verranno chiaramente predisposti ed adeguati in questa maniera agli altri casi saranno ovviamente i fornitori degli eventuali gestionali che adegueranno anche questa parte però giustamente come hai sottolineato è la parte di cioè è la parte della struttura esterna che viene gestita e creata da questa nuova sistema di questa transizione poi alcuni particolari sono chiaramente di gestione del fornitore di servizio ecco allora sto riguardando le domande mi pare che la prima sulle varie strutture interne del comune abbiamo fornito una risposta poi ce n'è un'altra che ci chiede di Geremia Canzavara esatto un po' specifica sui procedimenti allora e sulla scrivania quindi provo a rispondere io poi vediamo perché magari mi aiutate allora la scrivania interterzo nasce nel momento in buonetta aderisce alla scrivania sì certo cioè si costruisce in quel momento e poi successivamente potrai ricevere le istanze dal swap potrai ricevere le istanze dal swap sulla scrivania nel momento in cui ce l'ha altrimenti come è il sistema attuale le riceve via PEC quindi le riceve alla PEC un domani non le riceverà quindi dovrà avere per forza come abbiamo detto lo strumento sussidiario o un altro strumento per poter ricevere le pratiche andiamo avanti nel caso la domanda nasce da un caso che abbiamo avuto dove con l'istanza non era stato attivato un endoprocedimento per quell'ente successivamente il suo trasmesso a distanza con il nuovo inoltre ma l'entra dall'altra parte sosteneva di non trovare distanza all'interno della sua scrivania allora adesso non lo so cosa sia successo comunque se non è stato attivato l'endoprocedimento correttamente con il nuovo inoltre in realtà si inoltre alla pratica un nuovo ente però magari manca proprio la parte di compilazione relativa al procedimento di quell'ente quindi intanto forse bisognerebbe anche capire se è stato corretto fare un nuovo inoltre non lo so perché non lo vedesse all'interno della scrivania bisognerebbe analizzare il caso però la procedura corretta è in primo luogo che l'utente compili correttamente tutti i endoprocedimenti quindi scegliendo le opzioni in modo consapevole attivando perciò tutti i endoprocedimenti previsti a seconda dei vari regimi individuati dal decreto 222 del 2016 quindi è qui che nasce la pratica corretta che poi così correttamente potrà essere inoltrata agli enti competenti e arrivare oggi sulla scrivania di enti terzi attuale quindi attraverso lo strumento PEC se gli enti sono dotati di scrivania oppure alle PEC degli enti terzi domani arriverà o sullo strumento sussidiario o su un altro strumento alternativo che l'ente terzo avrà scelto mappato e accreditato all'SSU quindi quello che succederà domani sarà un po' diverso da quello che può succedere oggi in questa fase con l'attuazione quindi la realizzazione del scrivanie interesse spero di avere toccato tutti gli argomenti della domanda poi ci sono altre quesiti quello di Vallotto sì per gli enti che ricevono le pratiche di edilizia sulla sulla scrivania swap quindi parliamo del swap camerale imprese in un giorno le famose casette queste rientrano nel swap formalmente e quindi hanno la scadenza del 25 luglio del 2025 vi ricordo anche in questo caso che il swap camerale è già all'opera sull'adeguamento delle specifiche tecniche quindi anche questo passaggio sarà poi a cura del sistema camerale quindi per i suap per i suoi che sono integrati all'interno del swap il passaggio è automatico insieme alla scadenza del swap diverso è se invece il swap utilizza una piattaforma separata mi sembra che anche la domanda successiva sia un pochino in linea con questo in veneto con molti suoi integrati quindi c'è molto frequente il caso dei suoi che transitano tramite il portale perfetto un'altra domanda dice sarà possibile vedere una demo della soluzione sussidiaria allora dicevamo prima che la soluzione sussidiaria verrà verrà completata entro il primo trimestre del 2025 quindi sicuramente ci aspettano altre evoluzioni e sicuramente una questione molto utile anche appunto in funzione delle scelte quindi questo è un suggerimento che portiamo a casa perché sarà sicuramente utile svolgere una demo attualmente i lavori di realizzazione sono ancora in opera sono ancora in fase di perfezionamento quindi non non c'era possibile mostrarvela oggi però confidiamo di poterlo fare presto ecco l'ultima domanda ci dice per i comuni attualmente che stanno facendo quindi questo passaggio sul swap delle pratiche sue che sono già abilitati al suo è un po' la risposta di prima se vogliamo ripeterlo che così cerchiamo ancora ulteriormente questo punto sì diciamo che per i sue integrati all'interno degli sportelli swap il passaggio è insieme a questi ultimi quindi le scadenze sono previste insieme allo sportello swap il 25 luglio 2025 l'adeguamento che viene richiesto è dello strumento in questo caso swap quindi con le specifiche tecniche attuali è più una questione relativa al popolamento dei procedimenti e questo comunque sarà una questione che verrà anche questa trattata i procedimenti nazionali relativi all'edilizia sono già presenti a catalogo insieme al nodo nazionale poi le varie integrazioni regionali o comunali verranno popolate in seguito si ma si sta già lavorando per il popolamento è la regione veneto che dovrà procedere diciamo alla validazione dei procedimenti caricati quindi si sta si sono attivati si è attivato il tavolo tecnico per questo che ha lo scopo di far transitare appunto i procedimenti la popolazione del catalogo per quanto concerne sua per sue dobbiamo anche ricordare una cosa ma è già correttamente detto la collega il Veneto ha una caratteristica particolare quindi di avere già per l'80% avere integrato l'edilizia residenziale eccetera ma voi dovete considerare che queste norme questa transizione viene fatta per tutta Italia per situazioni in cui la digitalizzazione non è ancora piena per cui capite che è chiaro si danno le indicazioni generali poi ovviamente noi dobbiamo considerare la posizione possiamo anche dirlo privilegiata in cui noi siamo e quindi inoltre sulla demo eccetera è chiaro che ci vuole tempo ma è chiaro che sarà anche quella visibile perché se uno deve decidere che tipo di struttura deve darsi con l'eventuale scrivania sussidiare deve avere anche un po' un'idea di come è lo strumento quindi è anche giusto questo e teniamo presente che poi come abbiamo visto in quest'anno chi ha seguito più attentamente la situazione abbiamo visto continui adeguamenti di tutta la struttura proprio in rapporto alle esigenze come abbiamo detto anche prima grazie all'ascolto di funzione pubblica di union camera infocamera e di chi anche di chi come adesso sta facendo la diffusione e raccoglie queste perplessità e poi le trasmette quindi possiamo diciamo essere un po' tranquilli in questa visione ecco c'è ancora una domanda chiedono appunto sull'organizzazione interna no no guarda che aveva già stata detta è una domanda a cui abbiamo abbiamo già risposto per un disguido tecnico non riusciamo a chiuderla però abbiamo già risposto perché siamo quasi arrivati alle 12 se volete inviare il questionario a partire subito il questionario sì sì sul sistema Prince che chiedono se la ricezione delle pratiche di prevenzione in Prince da quanto sappiamo che anche lì è in fase di un adeguamento del sistema proprio da parte del comando centrale del ministero dell'interno proprio su questo tipo di procedimento quindi anche lì ovviamente si adegueranno questa è una prima interoperabilità ovviamente fatta prima delle specifiche tecniche per cui deve essere adeguata però è già in azione l'operazione di adeguamento assolutamente sì anzi il comando nazionale di vigili del fuoco è uno dei nostri interlocutori anche su questo ambito e è uno strumento che verrà adeguato anche perché viene ampiamente utilizzato a livello nazionale con anche esiti molto positivi e l'unica cosa che possiamo dire agganciandoci a questa domanda che ovviamente non riguarda il comando dei vigili del fuoco perché appunto è già attivo ogni ente ma anche l'ente regionale può fare riferimento a diciamo l'ordine superiore quindi le diramazioni penso territoriali degli enti nazionali o regionali per capire quali sono le linee che adotterà l'organo centrale in merito di adeguamento ogni ente ovviamente compierà le proprie scelte se lasciare autonomia ai distaccamenti territoriali oppure se come nel caso appunto dei vigili del fuoco verrà sviluppato uno strumento nazionale che poi verrà dato in dotazione anche ai distaccamenti territoriali questa è una verifica che potete fare certamente ognuno per la propria per il proprio scenario per il proprio caso e può sicuramente aiutarvi anche nei processi di registrazione di verifiche tecniche e tutti i piastaggi che ci siamo detti oggi per aderire al catalogo e al sistema informatico degli sportelli unici siamo arrivati a mezzogiorno se non arrivano nuove domande si potrebbe se voi state vedendo le risposte del questionario stanno arrivando le risposte teniamo a parto ancora un po' e poi ho capito che forse Giovanni Tarquini ha avuto un problema tecnico confermo ha avuto un problema tecnico quindi non non riesce più a collegarsi diciamo che la maggior parte dei partecipanti hanno dato risposta alle domande del questionario quindi magari un altro minutino e poi lo chiudiamo va bene grazie perché a voi ho visto che Giovanni non era più tra noi vi devo salutare anch'io arrivederci alla prossima grazie ancora arrivederci 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 grazie a tutti ok termino il sondaggio grazie a tutti Grazie a tutti